mai fidarsi solo dei copri occhi o traccia fresca andiamo a rompergli il burco col drone c'è c'è doc in torre era nel cesso finito nuovo caricatore allora rook in torre carica destrazione attivata non ho qua è morta dove cazzo è l'obiettino non è qui non ho il deviuser ho la prendere dai lo vado a prendere i pensori eliminati visione d'attacco riuscita